Ciao Mary, tutto ok? Insomma Bert, un po' stanca. Oggi i bambini erano parecchio nervosi e in più ora devo tornare a casa a preparare la cena. E vorrei che ti trovi un uomo Mary, almeno puoi aiutarti con la gestione della casa. Sai come la penso al riguardo? Comunque sia, io devo andare. Ciao Bert! Mary no! Perché ti sei buttata con un ombrello da quest'altetto? Secondo quale legge fisica pensavi minimamente di sopravvivere? Mary!